ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi torniamo a parlare dell'incisore laser g wake cloud un incisore a co2 con 50 watt di potenza già vi ho fatto un'introduzione di questo incisore laser è avuto un grandissimo successo ho lasciato un codice di sconto in tantissimi di voi già lo hanno acquistato ma è giusto che io dopo un po di utilizzo vi faccio vedere di cosa è capace come si utilizza le varie connessioni i programmi di essere poterlo utilizzare ho fatto alcune riprese dettagliate ricordatevi di andare a guardare giù nel primo commento e nella descrizione perché l'azienda mi ha promesso un codice di sconto quindi spero di riuscire a farvi risparmiare qualcosina già avete comprato in tantissimi questo prodotto con l'introduzione vedendo questa spiegazione più approfondita sono sicuro che in tantissimi correranno ad acquistarlo perché è un prodotto effettivamente valido e perché voglio fare quest'altro video perché non costa poco quindi è giusto che prima di acquistarlo si abbia una cognizione di quello che riesce a fare e di tutte le sue prestazioni qualità eccetera eccetera quindi cambiamo inquadratura e guardiamo per bene cosa riesce a fare e allora innanzitutto diamo un'occhiata alla macchina come vedete struttura in metallo come già vi ho fatto vedere fatta davvero benissimo il cassetto sulla parte bassa che ci permette di accedere direttamente al vano abbiamo anche questa parte in basso che come vedete però quando si realizzano i tagli soprattutto con potenze elevate si rovina quindi ho utilizzato un piano martire per evitare che il laser vada a danneggiarlo ma comunque non succede nulla è una cosa prevista dall'azienda e laser vado a colpire direttamente l'interno del cassetto quindi rimangano dei segni ma io l'ho utilizzato prevalentemente per fare delle incisioni poi qualche taglio che adesso vi farò vedere infatti a proposito di conoscere la potenza io prima di eseguire dei tagli su questo multistrato come vedete un centimetro di spessore ho dovuto realizzare diversi test una volta trovata la potenza la combinazione giusta poi ho seguito alcuni tagli con grandissima soddisfazione non solo sul legno ma anche sul plexiglass eccetera passiamo avanti vediamo pure nella parte posteriore c'è questo grande tubo che ci permette di espellere tutti i fumi e nella parte interna abbiamo appunto la griglia e molta reazione che ci permette di lavorare con comodità guardiamo allora la parte interna ho spento l'incisore per farvi vedere meglio un pochettino il tutto allora abbiamo questi due selettori che ci permettono di utilizzare questi rotary che si usano per fare delle incisioni sulle superfici cilindriche che vanno collegati tramite questo collegamento particolare a questa presa qua dietro una volta fatto il collegamento come vedete qua abbiamo delle frecce la freccia numero 2 e la freccia numero 1 base a quale tipo di rotary si utilizza dobbiamo utilizzare l'allineamento della freccia 1 oppure della freccia 2 in questo caso ovviamente avevamo solamente il movimento di questo asse e la rotazione del pezzo che va inciso per utilizzare il rotary ovviamente va rimosso questo alveare ma vedrete comunque le inquadrature in sovraimpressione durante l'utilizzo dello stesso rotary è possibile rimuovere anche questo coperchio e magnetico quindi si può rimuovere e posizionare con molta facilità ma nel caso in cui si voglia essere più sicuri si può bloccare anche con questo sistema a strappo infatti viene venuto con questo sistema e molti si chiedono cosa serva questo pezzo messo qua sopra semplicemente è la dimostrazione che l'allineamento degli specchi è stato fatto correttamente ma ora è arrivato il momento di vedere i risultati qua sul piano di lavoro interno abbiamo alcuni esempi innanzitutto ci tengo a precisare che ho utilizzato light barn si può anche utilizzare il programma specifico della gv cloud però personalmente mi trovo meglio con light barn sarà pure per una questione di abitudine e quindi ho preferito utilizzare quello comunque anche l'altro programma funziona bene ma obiettivamente non lo conosco in modo approfondito e quindi non so parlarvene tantissimo allora guardiamo innanzitutto i tagli realizzati su questo legno ripeto multistrato da un centimetro tra l'altro sulla superficie era stato passato un impregnante e ho voluto fare questa prova appositamente per vedere quanto fumo si accumulasse all'interno dell'incisore laser all'interno dell'ambiente e tutto il fumo devo dire è stato aspirato perfettamente quindi si respirava aria pulita comunque ho scelto di utilizzare alla fine 9 passaggi con una velocità elevata e questi tagli sono stati eseguiti davvero molto bene i pezzi alla fine si sono staccati automaticamente semplicemente sollevando il pezzo più grande e lasciando i pezzi ritagliati sul piano di lavoro un incisore laser co2 effettivamente da delle prestazioni elevate soprattutto quando si hanno 50 watt a disposizione e si può utilizzare perfettamente per tagliare sia il legno che altri materiali poi direte quali altri materiali tantissimi tra cui anche il plexiglass guardate questo è il primo test che ho fatto ho voluto provare con questo quadrato sono rimasto sbalordito dalla pulizia davvero tagli nettissimi a questo punto ho deciso di ritagliare il mio logo sul plexiglass allora ragazzi in questo modo non si vede benissimo pure perché c'è l'adesivo nella parte posteriore ma voglio farvi vedere un dettaglio perché ho fatto diversi di questi portachiavi e guardate questo dettaglio questa è una chiave inglese ad un cacciavite che hanno forse una dimensione di 5 mm guardate che qualità che tagli netti e che pulizia davvero eccezionale questo come tutti gli altri dettagli guardate le mie iniziali tutto ciò che compone questo portachiavi tutti i vari ritagli questi sono gli scarti che ho voluto conservare appositamente quindi anche sul plexiglass lavora perfettamente senza nessuna difficoltà e quindi Grazie a tutti Questo è il pannello in plexiglass da cui ho ritagliato questi portachiavi con il mio logo e il secondo che utilizzo perché il primo l'ho ritagliato praticamente tutto ma come vedete in basso abbiamo questo codice QR che permette alla macchina tramite questa webcam integrata di riconoscere cosa vogliamo tagliare e quindi adattarsi automaticamente. È possibile utilizzare anche questa webcam con Lightburn ma io non ho utilizzato questa impostazione eventualmente più avanti vi farò un altro video nel quale vi faccio vedere appunto come si utilizza e come si vede attraverso il computer e come si posizionano le incisioni per fare in modo che vadano a combaciare esattamente nel punto in cui vogliamo sfruttando l'inquadratura e spostando il tutto tramite mouse. Ovviamente a molti interesseranno anche le incisioni che però purtroppo non ho ripreso. Allora vi faccio vedere questo test e come potete vedere le incisioni si possono ottenere anche con un effetto 3D. Il file di test effettivamente non mi è riuscito. proprio al 100%. Infatti alcuni punti erano troppo potenti come vedete ho tagliato e anche la percentuale del 5, 10 e 15% non sono riuscito ad inciderle ma era un file corrotto. Da questa parte effettivamente mi è riuscito un pochettino meglio perché non ho tagliato però la parte superiore non mi piace tantissimo. Comunque ci rendiamo conto della sua gradualità man mano aumenta la potenza in modo da darci un effetto chiaro scuro in base alla sfumatura che vogliamo ottenere. Come vedete però i tagli sono riusciti tutti benissimo geometricamente perfetti pulizia di taglio anche nella parte posteriore nella parte superiore invece abbiamo qualche piccolo segno di bruciatura ma geometricamente perfetti con un'ottima gradualità e soprattutto con questo bellissimo effetto 3D. Adesso passiamo invece a quest'altro esempio. Questa è una borraccia in metallo nella quale ho voluto incidere il mio logo utilizzando proprio i rotary e in questo caso vedete come è riuscito a ottenere un ottimo risultato rimuovendo la vernice e quindi lasciando questa bella incisione del mio logo davvero molto dettagliata. Anche qua sono rimasto molto soddisfatto della qualità come vedete è riuscito a incidere perfettamente. Prima di concludere però volevo parlarvi di un dettaglio la messa a fuoco semplicissima per esempio tramite lightburn bisogna impostare nella sezione specifica della messa a fuoco un'altezza in base allo spessore del ciò che dobbiamo tagliare o ciò che dobbiamo incidere. Si parte da 17 che è la misura standard e da questo valore quindi da 17 dobbiamo rimuovere l'altezza quindi lo spessore del pezzo che ci interessa. Nel caso in cui lavoriamo per esempio con un pezzo da 3 mm dobbiamo rimuovere 3 e quindi impostare 14 nel valore della messa a fuoco. Penso che questi esempi siano più che sufficienti per capire la qualità di questo incisore laser. il fatto che può lavorare tranquillamente anche con lightburn, la pulizia e la velocità dell'incisione e del taglio sono effettivamente molto elevati. Io sono soddisfattissimo la sto utilizzando già da un po' di tempo, saranno ormai circa un paio di mesi e non ho mai avuto un solo problema basta premere il tastino per incidere e incide senza nessuna difficoltà. L'unico neo se vogliamo è che quando si va a fare il frame per l'incisione poi bisogna rimpostare la messa a fuoco perché quando la macchina ritorna alla home in automatico si rimposta con il valore iniziale. Quindi ogni volta bisogna rimpostare questo valore e poi si può incidere tranquillamente senza nessun problema. Detto questo ragazzi io vi ricordo di andare a guardare giù il link nel primo commento e nella descrizione. Date un'occhiata insomma alle caratteristiche se vi interessa acquistatelo e ricordatevi se lo trovate accanto al link di utilizzare il codice di sconto. Quindi vi saluto, vi invito a mettere mi piace a questo video e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.